Vittoria interna per il grifone di Mister Campagna, che sconfigge per tre e un'eparietà dell'Ottavia grazie alle reti di Battista, Fè e Tadaranni, di Giannicari, il momentaneo pareggio, siglato dagli ospiti. Padroni di casa, in vantaggio dopo nemmeno cinque minuti, con la punizione calciata di Battista, che scalca la barriera terminando la sua corsa e l'angolino alla destra del portiere. Intorno al quarto dovere di gioco, Coccia riesce a liberarsi per il tiro in area di rigore grazie ad un tocco involontario con la mano, ma la sua conclusione trova la pronta rispinta di Coluccia. Alla prima vera occasione, gli ospiti rimettono in reguilibrio il punteggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, Giannicari si getta sulla rispinta alla traversa, siglando di testa il momentaneo 1-1. Sei minuti più tardi, però, i rosso-blu sono di nuovo avanti grazie alla zampata di Capitan Fè, che avarbio nel raccogliere la rispinta del portiere avversario su una sua conclusione precedente. Per ora del duplice fischio, Giannicari riesce a smettare più in alto di tutti sul secondo palo, trondo solo l'esterno della rete che dà l'illusione del gol sugli spalti. A trovare il raddoppio nella ripresa, però, sono i ragazzi di campagna. Tatalani riesce a scappare in contropria dalla difesa avversaria e, una volta giunto in area di rigore, Fulmina Coluccia con un tiro in diagonale che colpisce il palo prima di terminare la scorsa in fondo alla rete. Al dodicesimo minuto, Zona lascia partire un insidioso tiro di collo sinistro alla posizione di filata, di poco a lato, della porta avversaria. Ottavia, che prova a reggere pochi istanti più tardi, con il tiro d'ottima posizione di Costantini, deviato da un pronto intervento di Romagnoli. Rosso-Blu, ad un passo al poker intorno alla mezz'ora, quando Zona serveva un passaggio illuminante marchetto, ma la conclusione numero 16 viene rispinta da Coluccia. Nel finale, gli ospiti vanno vicinissimi a riaprire il match. Periano libera con la Iacomo sulla fascia sinistra, che prova immediatamente la conclusione di sinnescare in angolo da Del Villano. Tre punti fondamentali, quelli conquista di oggi ha il grifone Monteverde, che permette Rosso-Blu di portarsi a 5 lunghezze di vantaggio sulla zona play-out.